Prima macchina mangia bollette di plastica in città collegata all'SM e la municipalizzata del comune che si occupa dei rifiuti. Il funzionamento è semplice, basta inserire la bottiglia di plastica e viene erogato lo scontrino che dà uno sconto al cliente. Nella stessa macchina possono essere inseriti anche i tappi. È un servizio molto utile e innovativo per i cittadini che già fanno raccolta differenziata, uno stimolo in più. L'SM e l'assessorato all'ambiente da tempo stanno lavorando su progetti di questo tipo. Tra le numerose iniziative che stiamo portando avanti insieme ad SM per stimolare una raccolta differenziata che sia di qualità all'interno del nostro comune, oggi mettiamo a disposizione della città questa macchina mangia plastica. Un aspetto molto importante, tutti noi sappiamo quanta plastica viene utilizzata, come l'ambiente, i mari siano ormai saturi di plastica, quindi è importante iniziare dai piccoli gesti. Ognuno di noi deve sentirsi la responsabilità di poter migliorare la situazione dell'ambiente del nostro pianeta. Questo è un piccolo gesto che porta anche dei benefici a chi l'andrà ad utilizzare. È un passo importante anche per la nostra città nello stimolare tutti i nostri cittadini ad un atteggiamento responsabile dello smaltimento dei rifiuti.